Tutti parlano di lavoro perché manca, perché stanca, perché muta, perché stressa, perché costa. Problemi che si ripetono da anni e dovunque e appaiono sempre più insolubili. Nell'acronimo delle ACLI centrale è la parola lavoratori che dà soggettività al sistema sociale. Molte fedi non è fare altro, ma un ciclo di incontri che cifra la possibilità di portare avanti una cultura dell'inclusione, tenendo in campo solidarietà e giustizia. Sono cioè una risposta alta all'emergenza dei valori. Iscriversi alle ACLI vuol dire contribuire a ritessere l'elogio della politica. Parola che sembra diventata impronunciabile. E questo nuoce alla vita democratica del nostro Paese in un momento in cui le priorità dell'umanità sono cambiate e credo che continueranno a cambiare.